Ciao sono Matteo Lavezzini e prima di iniziare vi invito a mettere like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche. In cambio del vostro supporto ho preparato il codice LAVEZZINIFLY10 per il 10% di sconto da utilizzare sul sito lavezzinifly.it che trovate in descrizione qui sotto. Inoltre vi ricordo che se al momento del vostro acquisto aggiungete almeno un paio di mosche artificiali al vostro ordine ne riceverete altre due in omaggio. Ma ora iniziamo subito con il video di oggi. Allora oggi parliamo del Barbel Nymph Kit, ovvero la selezione di nymfe specifiche per la pesca a mosca del barbo. Questo kit è composto da 5 modelli, ogni modello per due, quindi dentro ce ne sono 10, ci sono 10 mosche in tutto, 5 modelli. Adesso quando andrò, quando mi sposterò l'espositore mosche a prenderle, io ne prenderò una, ma il kit è come vedete in foto, composto da 5 per 2, 10. E dentro ci sono mosche che vanno come misure dal 14 al 10 per coprire ogni esigenza, cioè tutte le condizioni, sia che voi pescate i barbi in fondo valle, in grandi fiumi, con tanta acqua, grosse correnti, correnti forti, sia che voi li peschiate in ambienti più piccoli, più stretti, con meno acqua e più lenta, degli artificiali un po' più leggeri e degli artificiali un po' più pesanti, proprio per potersi adattare a tutte le condizioni in cui voi possiate pescare, trovare i barbi. Quindi adesso ci spostiamo all'espositore mosche, prendiamo le ninfe e torniamo qui al tavolo e le commentiamo. eccoci qua. Allora, iniziamo da Squirmy. Jig Brown Orange, Jig Caddis, una, verrà su una sola? E le Jig Caddis? Sì, ce l'abbiamo fatta. Jig Caddis, l'MN e il Worm. Questa cosa qua con una mano sola, ragazzi, è allucinante. Sono cinque modelli? Sì, cinque per due, dieci. Eccoci di nuovo qui con una, due, tre, quattro, cinque modelli. Di ogni modello ce n'è dentro due come da foto, quindi dieci. Partiamo dallo Squirmy, un artificiale che non poteva mancare, nel kit barbo, però proprio imita un verme, poi un artificiale in gomma, siliconico, quindi mette le sue vibrazioni, lavora a jig, come vedete il grosso di queste mosche su cinque, quattro sono a jig, proprio perché per i barbi, come ho già detto in un video precedente, bisogna lavorare sul fondo. E sono anche tutte mosche, che adesso le vedremo una per una, si adattano, cioè un kit che voi prendete per il barbo, ma si adattano anche ad altri pesci come temoli e trote. Poi c'è la jig brown orange, che è ottima appunto, oltre che per i barbi, anche per i temoli, ma per i barbi, specialmente il discorso della pallina arancio. La jig caddis, che è un po' più piccola come dimensione, e imita il portasasso, quindi è un'ottima mosca polivalente sia per il barbo nelle acque, dove vive nelle acque delle trote, che per le trote stesse. La mn, che è una mosca che nasce per i special grayling, per i temoli, ma abbiamo pescato anche i barbi, lo vedete nel video che c'è su della pesca dei barbi. E poi il worm, che è un altro vermettino, in modo da avere un vermetto un po' più leggero dello squirmi, in versione con la pallina arancio. E appunto, parlando di leggerezza, arriviamo alle palline, ai pesi. Come vedete, sono tutte mosche che vanno bene giù sul fondo, cioè questo qui è una pallina del 4, 3,8, 4 lo squirmi, 4 la jig brown orange, 3,5 la mn e il jig caddis, e il worm è un 2,8, un 3. Quindi è proprio, c'è una scala, quindi c'è sia dentro una scala di pesi che di colori, che di dimensioni. Quindi ci sono quelle con la pallina arancio, dove prediligono appunto la pallina arancio. Io ho visto che la pallina arancio funziona molto bene sui barbi, recuperatevi anche gli altri video che ho fatto e anche i blog sul sito ci sono. E poi ci sono invece le palline gold che sono più neutre, quindi anche qua avete la possibilità di variare e di fare le prove in base anche alle vostre acque. Direi che ho detto tutto, lasciate un commento qui sotto se avete domande, curiosità, argomenti. Grazie per averci seguito, mettete il like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!